Oggi andiamo a vedere come stanno procedendo i lavori della contrada. Entrati all'interno, la prima novità che appare nelle unità abitative sono le nuove scale che abbiamo realizzato in legno di abete che vanno a collegare tutti quanti i piani. Mi trovo al primo piano, di sotto c'è la partenza del piano terra, scala in legno e qui segue poi il secondo piano per la zona notte. Sotto abbiamo la zona giorno, qui sopra una zona giorno accessibile alla strada, qui si può vedere come abbiamo isolato le finestre, contorno in pietra esistente, falso telaio, isolamento in fibra di legno e poi qui insufflaggio in cellulosa e in tonaco di calce in modo da riportare i colori del muro più o meno uguali a quelli esistenti che abbiamo trovato all'interno della contrada. Salendo le scale, anche qui controparete di isolamento, finestra con il suo falso telaio e andiamo agli altri piani. Questa è la zona notte dove ci sarà il bagno della camera da letto, anche qui si vede l'isolamento, l'imbotte ultimato con la calce e qui si vede come verrà finito. Sentiamo ora il rumore esterno di questa contrada. Ora scendiamo giù dalla zona notte, qui sopra abbiamo il sottotetto dove lo isoleremo anche nella cellulosa, scendiamo giù e lanciamo l'assunto, zona giorno con accesso alla strada e torniamo giù al piano interrato. Anche qui tutto l'involto verrà isolato. Qui abbiamo il bagno, una bella camera da bagno e qui la zona giorno con camino che permette la vista sul bosco.